Gagazzi bentornati a Capitolo Giaco, Capitolo Modern Electric Bass, sesta puntata se non abbiamo parlato, sesto episodio, sesto esercizio, siamo arrivati al minuto 12.40-45 circa della video intervista di Modern Electric Bass, quando Giaco fa uno degli esercizi che preferisco, che amo di più, che ho studiato di più, ovvero l'esercizio che racchiude un po' diversi aspetti tecnici e non solo. Allora, siamo sempre in Do maggiore come esercizio precedente, però ovviamente Giaco inserisce gli elementi un po' particolari. Allora andiamo a vedere lentamente. Come prima cosa fa la scala di Do maggiore in questa porzione di tastiera, quindi parte dal Do sul terzo tasto della corda di La e fa questo pattern. Quindi il pattern è una serie consecutiva di intervalli, una specie di formule che si ripetono, quindi gli intervalli che si ripetono. Do fa questo all'inizio, gruppi quattro note in sedicesimi sulla scala di do maggiore, quindi do, do, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, mi, fa, sol, la, e arriva il do all'ottava sopra. Qui inizia un pattern diverso discendente ovvero inizia da la, quindi da la su secondo tasto della corda di sol, fa questo, la, fa, re, si, possiamo vederlo come un si minore settima, parte appunto dalla settima, che fa la, fa, re, si, quindi non faccio che un voicing, un pattern con questo voicing, quindi settima, settima, quinta, terza, tonica all'ottavo sopra, un po' si sposta di un tono, quindi di un grado della scala, bad sol, e fa lo stesso pattern, quindi sol, mi, do, la, e questo è un la minore settima, che semplicemente come prima, parte dalla settima, quindi al sol, mi, la quinta, do, terza minore, la tonica all'ottavo sopra, quindi ripete, lentamente, sol, 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 fa, mi, qui inserisce poi, dal mi inserisce il fa diesis, quindi fa sonorità classica sol, 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 sol E poi la seconda parte dell'esercizio esce un classico pattern che ha rifatto anche nei soli e in altre occasioni Quindi, perché fa un arpeggio di do major 7 con la nona e la diesis 11 Fa diesis Intanto si è spostato su questa porzione della tastiera Che farlo qui diventerebbe più difficoltoso Quindi sfrutta appunto conoscenze degli arpeggi su tutta la tastiera Sarebbe più complicato E poi fa questa parte Quindi ancora fa diesis Fa la fa diesis re si Inserisce fa naturale E chiude l'esercizio Un legato Sulla terza maggiore E mi Terza minore Terza maggiore Queste appoggiature E armonici finale Spunti da questo esercizio si può prendere veramente un'infinità Innanzitutto questo pattern che è molto comune E che possiamo poi utilizzare magari qualche spezzone Su una nostra improvvisazione Un feel Possiamo ampliare come sempre Posso andare avanti Cambiare sonalità Per esempio vado in fa diesis Sposto in sol Cambio viteggiature Anche l'altro pattern Quello che vi dicevo prima L'altro pattern Quello che dicevo prima Partiamo Settima Possiamo interiorizzare E poi utilizzare come possibile Feel Prendere appunto degli spezzoni Per creare poi musica Quindi Se mi trovo a dover fare un feel In do maggiore Posso utilizzare qualche L'inserimento del fa diesis può essere un'altra idea di sonorità Quindi Lidio Scala Lidia Alternata a quella maggiore Quando poi si sposta Anche questo è un altro pattern Si usa molto Nelle improvvisazioni Questo arpeggio Sulla tonalità maggiore Arpeggio Quella di esis 11 Possiamo studiare in molti modi Trovatevi le vostre Diteggiature Come sempre Pure anche di tredicesima Quella Un dici di diesis Un dicesima Mettare Che arrivo alla Praticamente E poi L'altro pattern Quello finale Diciamo E' più o meno Simile a Quello visto precedentemente Anche questo Possiamo Fare tutto Discendente Per esempio Partire da Sol Fa questo Questi armonici Che praticamente Fanno un accordo Di Do, Se, 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 Quindi anche questo esercizio Ne è personalmente Quello che mi ha dato Più spunti Poi nel corso del tempo E Quando Improvviso Mi accorgo Che spesso Inserisco Dei frammenti Di questi pattern Quindi Può essere Veramente Un'idea Quella di Prendere Qualche Piccolo Punto Frammento Di Un esercizio Per Creare Poi qualcosa Di nostro Un esercizio Quindi ragazzi Anche questo Lo abbiamo visto Spero che Di essermi spiegato Abbastanza Bene Anche se Quando si parla di Di gioco Non è mai Propriamente Semplice Né Eseguire Esercizi Né spiegare Quello che fa Però tanto Trovate Tutto scritto Quindi Potete rivedere Alcuni passaggi Se l'ho spiegato Male Scritti Su Spartito Come sempre Scaricabile Qui sotto Link E poi Se non vado Errato Il prossimo Esercizio Sarà La famosa Jam In me Famosa Che io Ho studiata Ho messo Sei anni Circa Per impararla Comunque La vedremo Passo per passo Passo Dopopasso Pezzettino Alla volta E ci sarà Da divertirsi Vi aspetto Il prossimo Tesorio Di questo Bellissimo Argomento E se vi piace Se vi piacciono Questi video Mettetemi Un pollicino In su Buona serata A tutti E al prossimo video Ciao